Ci troviamo in via Fastigi, una delle strade portanti della viabilità delle quartiere di Villa Fastigi, strada che però è al centro di una problematica di traffico crescente e anche di pericolo. Si fa portavoce di questo problema il consigliere comunale Luca Pagnoni di Dario, nonché residente proprio di Villa Fastigi, che ha raccolto proprio le rimostranze anche dei residenti in tal senso. Sì esatto, come appunto stavi dicendo, ha raccolto le rimostranze di numerosi cittadini che negli ultimi mesi lamentano sempre di più questo senso di insicurezza sulle strade principali del paese, sia via Fabreccia, sia via Fastigi, via Costa Fagnano e strada Madonna del Monte. Questo perché da quando è stato posizionato il tutor sulla Montella Battese si è registrato un forte aumento di traffico proprio sulle vie centrali del paese e soprattutto negli orari sia prima mattinata che in tarda serata con un calo del traffico e diventano proprio delle proprie autostrade. Un problema che diventa anche una mozione da presentare in consiglio comunale al rientro delle ferie nel mese di settembre per chiedere cosa? Esattamente, sulla scorta delle denunce abbiamo deciso anche con il consiglio di quartiere di proporre questa mozione al fine di richiedere una sorta di tutor che possa registrare la velocità di chi entra in queste vie in entrate e in uscita in maniera tale che la velocità si speri che possa ridursi notevolmente. Grazie a tutti.